giovedì 3 novembre 2022 questa mattina ho deciso di non andare in escursione nel beneventano perché le condizioni meteo erano abbastanza scoraggianti non tanto perché era prevista pioggia ma perché la giornata sarebbe stata comunque abbastanza nuvolosa allora mi sono tra virgolette accontentato di una piccola passeggiata lungo un tratto del sentiero che contorna il bordo del bordo superiore del cratere degli astroni anche qui la giornata si sta rapidamente rannuvolando non saranno riprese eccezionali la luce sfavorevole comunque verde ce n'è in abbondanza per fortuna